La storia l'avevamo fatta e c'era proprio il loro slogan che loro si presentano con questa idea di cambiamento possibile solo però ben riposati, per cui un cambiamento possibile ma dal lunedì al venerdì, poi dal venerdì al lunedì c'è il weekend, no? E' il grido di battaglia. E' il grido di battaglia, le guerre deiивossi e l'arroganza, le diffusi e rigendi, la giustizia dugricio l'avevo ben ero ed chce fare salti qua c'è da quantitì? No, la metta Blade fica da non secondo te Yes we can yes we canoooo Yes we cana Siamo parlando con battiglie, con possibili, con la schiena dritta e che merita risp Evening Sappiamo a qualche paese si attraversano in un business troppo nelle difficoltà O sai come si fa la posizione all'italiano Si va tutti in vacanza per il fine settimana Yes we can, yes we can, yes we can Tutte le critiche debole ma rispetto Grazie